Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Iniziano questa sera i lavori di rifacimento della rete aerea di alimentazione elettrica sulla ferrovia Metromare. L'ultima corsa dei treni dai capolinei di Porta San Paolo e Colombo dal lunedì al venerdì alle ore 21 poi il servizio prosegue su bus. Normale servizio ferroviario nelle giornate di sabato e domenica. Mercoledì sera dalle 21 all'Olimpico la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus potenziato il trasporto pubblico per l'occasione le metropolitane prolungheranno il servizio sino a 1.30 di notte.